Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è, destinato a salvare il mondo. Benvenuti o bentornati, ma bentrovati, all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 6 settem... 6 ottobre, io sono rimasto a settembre, non vado mai avanti. Il 6 ottobre 2021 è la frase del giorno, è questa. Lasciate che ve la legga. L'importanza delle cose si vede dall'impegno che si mette per cercare di portarle avanti, anche quando gli ostacoli sono tanti. Dal libro Lo specchio dell'anima di Monia Ghesini, fotografa e aforista. L'aforismo non è mai stato un mestiere, né tantomeno un'arte, perché se no saremmo tutti aforisti e saremmo tutti artisti e lavoratori. Beh, insomma, l'impegno, l'impegno che mettiamo nelle cose. L'impegno. E l'impegno... Ecco, io sono d'accordo con questa frase, sono d'accordo però mi rendo conto che c'è una certa dimensione, per non dire interpretazione, nella quale, insomma, non è vero. Perché dipende, dipende. Ecco, questa frase dipende. Ho visto tantissime persone nella mia vita impegnarsi mosse dal proprio egoismo e non mosse da una sincera passione. Altre invece le ho viste mosse con tanto impegno, mosse da, diciamo, un'illusione, mosse da una sorta di ipnosi, no? Ho visto un sacco di persone convincere se stesse che la propria operazione era quello che la televisione gli aveva suggerito. Quindi sì, insomma, c'è gente che mette l'importanza, le cose importanti sono... L'importanza si decreta dall'impegno, ci dice Monia Ghesini. L'importanza delle cose si vede dall'impegno. Però ho visto tanta gente dare importanza da qualcosa, impegnarsi perché, appunto, stava imitando idoli che erano idoli perché la televisione stava suggerendo che quegli individui andavano idolatrati. E quindi, insomma, sì, è vero per alcuni, per altre persone devo dire no. Perché l'importanza e l'impegno sono conseguenze dell'ego. Insomma, alla fine dipende. Bella frase, ma, insomma, interpretabile. Mie cari spettatori, miei cari psicocriminali, grazie per l'attenzione, grazie per la visione. Se vi è piaciuto questo video vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video. Per il resto io, come sempre, vi auguro il meglio, è solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!